D'ora in poi parliamo della dinastia dei Carolingi e lasciamo i nomi dei Pipini o dei Arnolvingi. E così andiamo dal rappresentante più importante di questa dinastia a Carlo Magno. Lui continuava la politica di suo padre Pipino il Breve e preparava anche il suo successore Ludovico il Pio. Tutti questi tre erano unici re o imperatori del Regno Franco. Da 747 Pipino era unico maggiordomo fino alla morte di Ludovico il Pio nel 840. Questo non era dato per sé. La tradizione franca prevedeva sempre la divisione del Regno ai legittimi eredi. Alla morte di Carlo Martello nel 741 c'erano due eredi, Carlo Magno e Pipino. Carlo Magno rinunciò nel 747 per diventare monaco e si ritirò a Monte Cassino. volesse invece riprendere il potere nel 754 però senza effetto, senza successo. Alla morte di Pipino il Breve nel 768 c'erano due figli, Carlo e Carlo Magno. Carlo Magno invece morì nel 771 e da 771 Carlo era unico erede, unico re di tutto l'impero. Carlo fu chiamato Carlo Magno. Carlo Magno lui stesso aveva parecchi figli legittimi però fino alla sua morte nel 814 sopravvisse soltanto uno, Ludovico il Pio. e alla morte di Ludovico il Pio c'erano tre eredi legittimi. Per conseguenza abbiamo il famoso trattato di Verdun nel 843 che divise tutto l'impero in tre parti. Adesso parliamo all'inizio della politica esterna di Carlo Magno e questa politica esterna guidava anche verso un nuovo contatto con il papato. In un secondo passo poi parliamo dell'identità del re che aveva come conseguenza il rinascimento carolingio con un grande impatto culturale. Torniamo adesso alle tre frontiere di espansione che ho già spiegato quando abbiamo parlato di Carlo Martello. All'inizio adesso parliamo dell'espansione settentrionale, dell'espansione contro i Sassoni. I Sassoni erano una tribù germanica che veniva dal nord-est. Questa espansione verso i Sassoni era l'azione più conosciuta e anche più criticata. Questi Sassoni si avvicinavano verso l'anno 700 al Regno Franco. I Sassoni erano l'ultima tribù che assumeva la fede cristiana. Carlo Magno investiva 33 anni per la loro integrazione all'impero. Il processo era simile a quello dei Frisoni, ma molto più esteso e molto più grave. Abbiamo una cristianizzazione che andava insieme con l'espansione politica, con l'integrazione della tribù nel Regno Franco. Ma più che dai Frisoni, osserviamo una resistenza forte, una manifestazione di indipendenza politica. e questa resistenza si manifestava soprattutto nel rifiuto della religione carolingia della religione cristiana. Come si svolgeva questa espansione o questa integrazione dei Sassoni? Nel 772 Carlo Magno faceva una campagna militare e distrusse un santuario dei Sassoni, un albero che simbolizzava la colonna divina che riuniva la terra con il cielo. Nel 773 Carlo era in Italia e in questo tempo i Sassoni si vendicavano e distrussero due monasteri. In conseguenza Carlo Magno prese la grande indecisione di combattere i Sassoni finché fossero vinti e cristianizzati. Nel 776 abbiamo una prima sottomissione di questi Sassoni e in conseguenza nell'anno seguente si svolgeva un'assemblea imperiale e un sinodo per organizzare la missione di questa tribù. Nel 778 Carlo Magno era in Spagna e da parte dei Sfrisoni osserviamo una nuova ribellione. Nell'anno seguente, 779, Carlo Magno si vendicava con una esecuzione di molti Sassoni, nel cosiddetto Massacro di Verden e poi continuavano delle lotte fino a 803. Il fattore centrale era l'anno 785 con il battesimo del principe Sassone Vittichindio. In conseguenza furono fondate parecchie diocesi. Di particolare rilievo è anche la fondazione del monastero di Corve nel centro della Sassonia, oggi in Nordreno-Vestfalia nel 802, cioè dopo la morte di Carlo Magno. Prima, nobili Sassoni sono stati mandati a Corvi per essere educati nella fede cristiana. Tale conquista dei Sassoni, con questa cristianizzazione accompagnata, è stato considerato come punto più scuro nella biografia di Carlo Magno. Questa missione dei Sassoni è anche discussa fino adesso. Perché questa missione dei Sassoni è caratterizzata molto più negativa della missione dei Frisoni? I Frisoni sono stati cristianizzati sotto delle persone carismatiche, come Vili Brodo e Bonifacio, e tali personalità mancavano nella missione dei Sassoni. Un'altra ragione per la brutta fama si spiega con il fatto che la politica di Carlo Magno era già criticata pure nel tempo stesso. La critica, e questo è interessante, sorgeva in prima riga da Alquino. Alquino era il grande consigliere di Carlo Magno, era direttore della scuola palatina di Acquiscrano. Allora, da una parte possiamo parlare di una espansione molto crudele, ma è notevole che dopo una grande esecuzione nel anno 802, i prigionieri di guerra non furono venduti in schiavitù. Fino allora questo era completamente comune. Un altro elemento, il battesimo nel 785 di Vittichindo, il grande condottiero Sassone che cappeggiava la ribellione o la resistenza contro i Carolingi. Carlo Magno era padrino di Vittichindio. Era così obbligato a trattare il suo più grande avversario come persona onorata. È anche molto probabile, ma non tanto sicuro, che Vittichindio divenne conte dopo il battesimo. Vale a dire, tutta la sua famiglia entrò in servizio della corte. Allora, abbiamo una integrazione immediata di questi Sassoni sul livello alto dell'amministrazione dell'impero. Nel 802-803 fu creata anche una propria lecce Sassone. Allora, i Sassoni come parte dell'impero stavano sullo stesso livello di tutte le altre tribù o popolazioni dell'impero. Allora, abbiamo nella politica carolingia due elementi. La sottomissione da una parte che era anche accompagnata da crudeltà e dall'altra parte abbiamo una integrazione di parità di questo nuovo popolo. Naturalmente la missione fu forzata per motivi politici e questo non è mai giustificabile. Ma Alcuino e altri criticavano questa politica di Carlo Magno e sono riusciti a criticare l'imperatore o il re senza essere deposti. Alcuino, malgrado la sua critica forte e pubblica del re, rimaneva direttore della scuola palatina e era stimato da Carlo Magno. Cioè il fatto che tale campagna aggressiva di Carlo Magno è testimoniata in documenti imperiali, non è soltanto l'indizio per l'effettività del fatto, ma anche per l'atteggiamento, lo spirito dell'istituzione dove la critica fu fatta e documentata. vale a dire la corte di Carlo Magno era un ambiente di condivisione, anche un ambiente dove i propri membri potevano esprimere la propria opinione. Senza dubbio questa aggressione, espansione contro i Sassoni era molto crudele. Interessante è soltanto il fatto qui che questa crudeltà è documentata dalla scuola palatina stesso, vale a dire da una istituzione che apparteneva e sosteneva la politica di Carlo Magno. erano i propri consiglieri, soprattutto Al Guino, che documentavano questo atto crudele e lo criticavano anche. Possiamo domandarci adesso, possiamo fare adesso il paragone con la missione dei Frisoni? Non sappiamo niente perché manca questo elemento anche della documentazione continua. Naturalmente Bonifacio e Vilibrodo erano delle grandi personalità che forse garantivano anche una cristianizzazione più profonda. Invece in questa politica di Carlo Magno vediamo che siamo avanzati verso una cultura più sviluppata, una cultura veramente intellettuale nella scuola palatina. Questo non serve per giustificare l'atto della cristianizzazione forzata, però dobbiamo renderci conto. Quando un fatto è documentato bene, questo ci rende possibile di criticarlo. Invece dove le fonti stanno zitte non sappiamo niente delle condizioni reali in cui si svolgeva questo processo. Allora vale sicuramente la pena di discutere questa missione dei Sassoni. Dall'altra parte dobbiamo renderci conto di questa personalità di alcuno che era rimasto sempre consigliere di Carlo Magno. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.